Dottore, dottore nel buco del cu, baffa cu, baffa cu Madonna, no, stai a vederlo Che squaraggia E' un L, se qui sta grande prende un L, S, B Discorso, discorso Allora, mi prometto che adesso farò due allenamenti di fulgine Ma c'è la Juve Dalla passia al dottore Io questa l'ho comprata perché so che magari quello non piace a tutti Grazie E' arrivato oggi, abbiamo fatto un allenamento E dai facciamolo il regalo Mi vogliono affrontati insieme Oh 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 Questa era tutto l'idea Sì, voglio bene a tutti i popper della regione, grazie a tutti i tempi per cominciare. ... ... ... ... ... ... a 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